ciao a tutti sono francesca lu come state voglio leggervi qualche frase nessuno può vivere senza la propria ombra chi non ha più ombra non ha più vita e solo uno spettro valerio massimo manfredi nell'ossessione dell'oasi l'uomo assetato immagina l'acqua le palme e l'ombra ma non perché ce ne siano oggettivi indizi ma perché ne ha pressante necessità alende botton e l'ultima tutti vogliono un posto al sole e in più possibilmente all'ombra stanislav jersey perché secondo me l'ombra è qualcosa di estremamente intrigante fascinoso misterioso pare sempre che cieli qualche cosa che nasconda ma in realtà se non osserviamo attentamente i contorni riusciamo quasi subito immaginare che cosa c'è dietro o chi c'è dietro e quindi adesso vi lascio al mio video io non faccio altro che augurarvi buona visione e mi raccomando iscrivetevi al canale se vi sono piaciuta mi trovate anche su instagram facebook e twitter ciao a tutti e buona visione da francesca lu 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 buona visione da francesca lu